Nel video di oggi voglio mostrare un collage di Trading Room delle ultime due settimane per mostrare un bel trade, possiamo dire, che ho fatto sul DAX partendo dal 7 di febbraio scorso con anche un incremento fatto durante il trade e questo serve per farvi vedere le varie fasi che può passare un trader con le varie fasi di mercato e quindi una gestione attiva della posizione. Invece di fare un video di recap ho voluto proprio prendere tutte le Trading Room che ho fatto nel Platinum quindi nel nostro servizio di mentorship di giorno in giorno, ho saltato qualche giorno se no veniva un video troppo lungo, già è un video abbastanza pieno di cose e quindi sono sicuro che per chi ama la didattica e ama vedere come un trader professionista come me gestisce le operazioni e tra l'altro reale ovviamente, le operazioni reali può ovviamente capire nel pratico come non solo si apre un trade ma anche come si gestisce e si chiude. Questo è un trading che ha durato svariati giorni. Quindi spero che possiate così avere un beneficio dallo studio di questo video ovviamente vi chiedo di lasciare un like se poi questo video vi piacerà ed iscrivervi a questo canale se non siete ancora iscritti adesso vi lascio al video e al collage che ho fatto di tutte le varie Trading Room intanto un saluto, ciao a presto Io partirei Anto, ho inserito un ordine quindi partirei dall'ordine che ho inserito sul DAX anzi dirò di più, lo guardiamo ovviamente a livello tecnico ma visto che mi sono ripulito un po' ho il Sales Calculator, facciamo vedere anche come funziona il Sales Calculator e inseriamo quest'ordine, diciamo anche se io l'ho praticamente già inserito però io partirei proprio da qui perché la cosa bella di quello che vi dicevo anche vi dicevamo ieri di questo strumento che possiamo scaricare direttamente dall'area riservata Platinum è che ci permette in effetti di calcolare molto bene quelle che sono le nostre operazioni quindi in questo caso vedete abbiamo valuta indice e materia prima, andiamo su indice poi ovviamente adesso andiamo a vedere i motivi che mi hanno anche fatto inserire un ordine limit e un po' tutto comunque DAX, ecco qua, Index lo prende lui, tutta la parte in grigio la prende già lui quindi la calcola automaticamente, vado sulla data, clicco due volte e mi dà il tondino sulla data odierna quindi al momento inserisco l'ordine in questa data non è detto che verrà eseguito perché è un limit e anche uno stop può non essere eseguito quindi se non verrò eseguito poi vedremo che lo cancelleremo non lo andremo neanche inserire nel diario, lo tengo lì pronto per inserirlo quindi 7 febbraio, in questo caso buy perché è un buy limit e diciamo il tipo di setup è l'FTV dell'altro giorno adesso la vediamo veduta livello di ingresso, allora il livello di ingresso io, poi vi spiego ovviamente i motivi metterei 16, 9 e 85, quindi un limit un po' più sotto al prezzo odierno con uno stop massimo a 16, 5 e 10 anche qui poi lo vediamo livello di uscita in profitto, io al momento non l'ho inserita ma l'avevo guardata comunque mettiamo che vogliamo uscire, adesso vi faccio, faccio questo qui vogliamo uscire in area 17, 4 e 90 come massimo uscita e uscita a costo, che anche qui poi la vediamo, che potrebbe arrivare a costo sotto i 16, 7 direi quindi facciamo 16, 6 e 90, 16, 6 e 80, stiamo anche un po' più ridotto ovviamente andiamo a inserire il calcolo in base al rischio quindi il conto, in questo caso 25 e l'investimento quanto vuole essere io metto il 2%, 500 ed ecco qua che viene fuori il totalone vedete che l'investimento è inserito e mi calcola tutte quante le nostre bellissime come dire, risultati quindi profitto, costo uscita, costo ridotto la leva, mi calcola lo spread e tutto quindi mi dice che per entrare qui il controllore che devo usare è reale è 17.878 euro c'è Fedimini 1,05 la leva utilizzata rispetto al conto è inferiore a 1 a 1 quindi 1,072 profitto possibile ovviamente quello che è un target ultimo della possibile operazione è la zona appunto dei 17,490 quindi costo in profitto 5,31 costo ridotto possibile diciamo, sotto di là inizierei un po' a pensare 3,21 c'è lo spread, c'è tutto questo qui poi va copiato di incollato c'è anche scritto, vedete da copiare e incollare nell'area febbraio e quindi però questo lo farò solamente nel momento che si è entrato perché può essere che questo adesso vada su diretto pigli 200 punti io toglierò ovviamente l'ordine ok la mia prerogativa è quella di entrare in questo caso con un ordine un po' in scucchiaiata verso il basso per ripartire diciamo quindi molto bello molto semplice molto chiaro questo è un po' il trade se io vado quindi a prendere qua qua mi avevo calcolato 1,06 ma comunque cambia poco 1,05, 1,06 503 insomma questo è un po' il il rischio preso e l'ordine adesso andiamo a vedere i motivi che mi hanno spinto a questa mattina a decidere di inserire quest'ordine allora intanto partiamo un po' da lontano diciamo partiamo dal weekly questo è un mercato che stavamo osservando fino a 3-4 settimane fa in ottica short dopo che c'erano state delle conferme short su cui poi si era in effetti io il mio primo ordine dell'anno è stato proprio un trade short in questa zona sul DAX che poi qui però aveva fatto quella falsa rottura su cui ho aspettato qualche giorno fino a quando non è stato veramente bucato io poi ho deciso di uscire con un costo ridotto perché in una situazione di macro trend bullish ma di micro trend bearish pensavo di riuscire a prendere un movimento short che così poi non c'è stato il mercato ha cambiato ed ha continuato la tendenza precedente andando a formare sul daily questa falsa rottura ma su weekly ancora più chiaramente quindi la macro picture che a noi ci piace molto da un punto di vista proprio di studio di quello che è la nostra il nostro trading diciamo ha creato questa inside fake out questa qui è una pin bar con inside fake out quindi con il fake del dell'inside dell'outside che è stato convalidato con la rottura della pin bar proprio nella settimana 22 gennaio e che è stato convalidato totalmente con anche la rottura dell'outside perché sappiamo che l'inside fake out comunque diciamo che ha la convalida completa quando va a violare addirittura anche i massimi in questo caso dell'outside convalidata la settimana scorsa e soprattutto la settimana scorsa si era formato giovedì 1 febbraio questa bella FTV quasi doppio minimo Ayer che aveva fatto il ritest dell'area 16.8 con una falsa rottura dei 16.000 16.008 appunto quindi andando a toccare i 16.780 con su sei ore si notava questa mini falsa rottura dei 16.8 questo minimo e questo minimo leggermente più basso poi ha portato su diciamo il movimento e che cosa è successo è successo che sono create queste due inside io non avevo ancora inserito l'ordine ve lo dicevo anche ieri non non ero ancora convinto di entrare sul breakout perché comunque queste inside potevano portare a una sorta di rottura e di ritracciamento cosa che tra l'altro al momento si sta verificando ieri però la conferma tra l'altro ulteriore di un ulteriore FTV Power che tra l'altro questa mattina è stata anche già convalidata e che potrebbe portare in effetti i prezzi a salire notevolmente a questo punto però non mi sono inserito il trade direttamente a mercato stamattina che era 17.50 la sui massimi non mi piaceva entrare perché è molto facile un ritracciamento cosa che in effetti sta avvenendo poi vedremo se verrà eseguito ma ho notato una base bella solida proprio tra le chiusure fatte tra lunedì 9 gennaio martedì 30 gennaio queste chiusure questo massimo vedendo che tra l'altro eravamo appena sotto i 17.000 e che una volta che i 17.000 vengono un po' bucati in apertura spesso comunque durante la giornata può crearsi un ribasso anche di 30 40 pips dai massimi quindi andare anche a 9.60 9.50 durante la giornata i 9.85 mi sembravano nei pressi dell'area tonda 17 mi sembravano il giusto punto di equilibrio tra gli spike le chiusure gli spike di massimo la candela la volatilità di ieri dopo aver fatto la rottura molto vicino appunto a questo numero tondo in realtà però molto lontano dai 16.8 e dal pivò 16.730 e quindi molto buono per fare un'operazione che non mi preoccupi diciamo nel momento in cui possa entrare e quindi fare il suo il suo movimento a questo punto sono andato a vedere dove è più per me interessante andare a impostare lo stop non vi nego che inizialmente ho provato anche a pensarlo di inserire addirittura sotto il minimo settimanale ma poi ho detto ho pensato la conferma sul daily mi permette altrimenti avrei fatto direttamente il settimanale mi permette di essere un po' più come dire più trader e di andare a calcolare un punto molto lontano dai minimi e dal pivò io ho calcolato questo che potesse essere diciamo che mi potesse dare la tranquillità anche di uscire in live perita tant'è che sul costo di ridotto avete visto ho messo 16.680 cioè sarebbe ben sotto i minimi fate conto che i minimi della FTV di entrata è 16.780 i minimi cioè i livelli di pivot sono 16.730 io costo ridotto 16.680 quindi la zona qui ben sotto i minimi diciamo che potrebbe essere poi per farsi un'idea quindi ho fatto un po' di calcoli ho visto che qui bene o male ci poteva stare questa è un'area molto lontana e che per carità poi potrebbe ritornare qui e qui fare un ulteriore swing però allora possiamo dirlo anche di qua possiamo dirlo di ogni zona se vogliamo questa mi sembrava una zona abbastanza di equilibrio dove andare a impostare un possibile stop inizialmente del 2% quindi io nel mio piano addirittura potrei arrivare anche leggermente sopra anche se probabilmente atterrò questo quindi entro non subito totalmente col mio trade però entro comunque bene e quindi faccio questa cosa tra l'altro stamattina guardo anche se il client sentiment dei trader rimaneva sempre a favore di una short germany e petrolio è il primo posto per i long germany è l'ultimo posto per i long quindi diciamo che i due mercati che stavo osservando di più che sono proprio il crudo e il dax sono proprio agli antipodi quindi e siamo noi nell'idea che il crudo lo vorrei shortare nell'ottica che un trade magari si viene a creare non lo sappiamo ancora quindi un trigger più che altro e il germany addirittura era ancora molto verso l'ottanta per cento addirittura che non è che sia adesso l'indicatore però sono andato a vedere perché spesso questo ci mostra se fossi ritornato sotto il sessanta per cento sarebbe stato magari anche diversa la mia la mia posizione perché magari i trader iniziano a ribilanciarsi invece in questo caso addirittura questo vuol dire che probabilmente sopra più andiamo sopra più potrebbero essere colpiti stop o comunque potrebbero essere chiuse posizioni in perdita proprio perché molti trader sono dalla parte short e iniziano a chiudere perché perché scatta quella cosa che è o proprio la gestione del rischio quindi posizioni che vanno a stop o panico quindi il fatto che il mercato continua a salire io sono short e quindi chiudo un po' per paura questi sono un po' i fattori psicologici che spesso influenzano il mercato e vanno a creare anche i nostri trigger vanno a creare le dinamiche che a noi ci piacciono quindi per tutto questo questa analisi che vi ho fatto e questo mercato che stiamo seguendo da un po' ho deciso di inserire questo trade a 9.85 che potrebbe anche potrebbe anche eseguirmelo perché siamo a 9.93 quindi è molto facile che lui ci vada e se poi si va allora andrò a copiare il mio trade sul febbraio e poi basta poi si gestisce questo è un po' yes molto bene tutto chiarissimo io vedo anche che c'è qualcun altro forse Raffaele vedo qua l'ultimo messaggio non so se ne aveva mandato solo Raffaele ha parlato del DAX poi parliamo degli altri che hanno scritto su altri mercati Raffaele chiede se cioè lui aspetterebbe la chiusura weekly sopra il nostro trigger trigger short quello vecchio forse ah questo forse chiusura sopra il trigger ma chiusura sono già state ah sopra i massimi forse lui dice ah eh sì diciamo tutto può stare non è che uno deve entrare assolutamente entri più confermato ancora magari in quel momento se si dovesse verificare quella faccenda magari arduo addirittura incrementa va ah beh certo va a spostare a ridurre il rischio vi do Raffaele voglio dire una cosa Raffaele poi che comunque ci sta molto bene ci sta la chiusura però per me importante è stata questa no eh il fatto che lui chiuda sopra non era mai riuscito a chiudere sopra questa che già comunque era un livello di sì di massimo e adesso era da un po' che chiudeva sotto quindi con questa tra l'altro post trigger weekly diciamo ci conferma la forza sopra ovviamente determinati livelli se ritorniamo sotto se no non metterei gli stop cambierebbe un po' no la la view e ovviamente so che comunque ogni trade può essere può essere merce comprata e che rimane in magazzino e quindi io sono consapevole che comunque se scende e crolla sotto certi livelli ho uno stop del 2% e ho comunque i livelli anche di costo ridotto che mi possono permettere magari di evitare il costo pieno che poi non è così pieno nel senso che il mio pieno perché io quest'anno ho deciso di alzare un po' il rischio totale e quindi iniziale ma in realtà sono ancora con un rischio come quando l'anno scorso entravo in posizione con un 1% un 1,20 1,30 quindi diciamo che non è che sia cambiato diciamo che fondamentalmente Raffaello lo sa bene la nostra filosofia non è il problema di aspettare un po' in più se aspetti ci sta e avrai giustamente uno se sente di dover aspettare intanto aspetta quindi non fa e sicuramente ci saranno altre opportunità perché questo se sale ci darà sicuramente altre opportunità in trading quindi vai tranquillo e Simone ah ecco ha scritto l'altro il massimo sembra tenere sarei più tranquillo ecco allora se sei più tranquillo fai così per quanto riguarda Simone dice non era sbagliato mettere un buy stop sul trigger di ieri ma quando non è il mio trigger però io non sono entrato su quel trigger io sono no però lui dice Simone dice non era cioè se a livello di entrata sì non era sbagliato però il discorso sai qual è Simone che siccome noi gli ordini mettiamo a mattina stamattina stava già rotto il trigger di ieri quindi quando mettevamo sto buy stop a mezzanotte sì no stamattina però quando ho visto io eravamo proprio sui ma era qua che rompe era sui maschi però dirti ma non sarei mai entrato lì comunque non sarei mai entrato là sui massimi cioè entrare proprio sui massimi così non ci è mai tanto piaciuto tendenzialmente diciamo sì però mi sa che il trigger di ieri però il massimo di ieri quando è sì è stato rotto stanotte Ardu ah addirittura ecco quindi capito quindi il massimo di ieri è stato rotto stanotte e quindi tecnicamente Simone non è che non si poteva mettere il fatto è che noi le ordini difficilmente mettiamo le ordini la sera no non li mettiamo solamente per questo non è che è sbagliato è noi che non lo non lo facciamo poi in questo caso quello di ieri in realtà non è un il trigger che noi avremmo tradato quello di ieri se ci pensi Simone è la conferma del trigger della scorsa settimana proprio questo il discorso quindi quello di ieri è bello non per lui è bello per l'altro capito cioè perché va a confermare quella dinamica quindi FTV due inside la giornata di ieri convalida il trigger dell'altra settimana diventa a sua volta un trigger perché è una power non è che Arduino ha tradato la power di capito ha tradato la dinamica di ulteriore conferme addirittura non è entrato nemmeno al mercato Ardu stamattina poteva tranquillamente entrare al mercato ma vedendo che giustamente poteva un po' ritracciare il prezzo ha messo un ordine anche su un mini ritracciamento quindi e questo è il progetto ora non ne ho parlato Ardu Ardu l'ha spiegato non in questi termini ha spiegato la sua entrata però il concetto è quello è quello perché poi bisogna dire a Simone un po' a tutti che noi no difficilmente se abbiamo questa che giustamente non è stato il mio trigger ma è la conferma della dinamica che mi ha fatto pensare che allora siamo pronti peraltro come dicevi tu FTV quasi doppio minimo air ritesto inside inside rottura chiusa bene con anche FTV però però comunque non avrei inserito l'ordine come non l'ho inserito subito qui se ci pensi sulla prima perché andavo a comprare proprio sopra massimi storici o sopra massimi solitamente non andiamo a comprare sopra massimi quando noi andiamo buy stop se ci pensi magari andiamo buy stop qui su questa falsa rottura no qui potremmo andare buy stop perché perché c'è spazio verso massimi successivi se invece io sono su massimi di periodo o in questo caso storici non compro sopra qua perché può succedere quello che sta succedendo cioè il fatto che lui rompa i massimi e poi ritracci un po' quindi non è il mio comprare il massimo non è il mio quando è che vado buy stop ripeto vado buy stop quando nella parte sinistra del grafico ho lo spazio di avere altri massimi o altri minimi sell stop in questo caso comprare proprio cioè io qua potrei aver comprato un massimo questo scendo comprare per carità perdo uguale perdo sia se il mercato crolla completamente che se il mercato quindi perdo sia se se crolla completamente perdo sia se entro buy limit sia se entro buy stop però ho un'entrata migliorativa che mi permette di avere una gestione del rischio differente no e va anche a migliorare appunto la mia entrata e voi provate a pensare se io no se poi lui riparte un po' e fa un candelabro così per poi magari riscendere un conto essere entrati qua un conto essere entrati qua io qua addirittura potrei mettermi a break even già no qui no perché lui potrebbe fare ancora questo se ci pensi quindi l'entrata migliorativa ci permette in questo caso perché è limit anche di gestire la meglio che poi io non sono ancora entrato adesso può essere che lui riparta e non mi prenda più diciamo che ho seguito il 9.85 perché mi sembra buono in realtà anche i 9.90 lui li ha fatti forse i 9.90 se ha fatto 88 mi avrebbe eseguito inizialmente sul 6 calcoletto avevo messo 9.90 però 85 ho detto meglio ancora perché magari fa proprio sul 9.90 gli dà quella no però vediamo può essere che faccia anche 9.40 oggi posso andare molto più giù questo no è la cosa tra l'altro guarda voglio far vedere a tutti se io vado a prendere proprio la nostra prima FTV diciamo lui non ha neanche una volta rotta non ha neanche ancora testato il classico T2 c'è il 130.90 quindi il fatto che ci possa essere un ritracciamento anche più profondo dopo la rottura perché la rottura non l'ha ancora fatta cioè voglio dire siamo sui massimi no tanti iniziano un po' a vendicchiare avete visto quindi magari qualche vendita un po' sporadica c'è il mercato va riscendo un po' mi esegue meglio io riesco a gestire meglio il trade il motivo poi per per cui ho messo il target a 17.5 nel 17.4.90 però l'ho messo molto come dire sono massimi storici dovremmo capire un po' come si come si muove il tutto in realtà è perché ho preso la pin bar proprio lo swingone del weekly che andava a 17.5.20 come T5 dopo aver fatto il T3 proprio in questi giorni e quindi il ritracciamento il movimento potrebbe portare là come target diciamo anche se essendo su massimi storici è sempre un po' un punto di domanda e bisognerà gestirla secondo me di giorno in giorno magari senza essere troppo frettolosi di settimana in settimana nel caso in cui io la portazione mi entrerà però impostazione molto buona eravamo arrivati sul weekly in una fase che poteva ritracciare di più non l'ha fatto comunque il ritracciamento c'è stato recupera e dopo una gamba del genere e un ritracciamento che dura variate settimane se rompe io credo che almeno un altro movimento discretamente buono lo potrebbe fare ecco perché mi sono messo mi sono messo log poi comunque questa no? l'analisi un po' per il DAX adesso andiamo a vedere anche tutti gli altri mercati sì e poi in realtà Ardu quella zona che tu hai detto che potrebbe essere diciamo la zona del costo ridotto in realtà è la zona dove tu potresti spostare nel momento in cui rompe i massimi inizia a volare sì tra l'altro e ridurre il rischio cioè diventa una riduzione di rischio eventualmente anche se dovesse swingare ancora un possibile incremento senza aumentare il rischio monetario assolutamente per esempio quel discorso che si faceva prima con Raffaele cioè nel momento in cui Raffaele magari va a trovare la sua conferma per noi potrebbe essere il momento in cui si può andare un attimo a incrementare l'operazione sapendo che l'obiettivo non è incrementare l'operazione l'obiettivo è capire se se questo mercato evidentemente se rompe ancora i massimi settimanali e non va ancora su evidentemente ne ha ancora no? potrebbe fare il miglior trade no? che si possa fare diciamo l'obiettivo è tradare il meglio la qualità insomma no? sì 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 certo infatti è quello noi incrementiamo ogni tanto quando se pensiamo ci possono essere no? le preludative corrette io in realtà la zona di target è tardù poi ovviamente tu non l'ho neanche inserito Anto io non l'ho inserito al momento prima parlavo di 4 e 90 io metterei perché ho visto una confluenza nella zona dei 17 e 4 dai tra i 17 e 4 e 10 e i 17 e 4 e 30 c'è questa sicuramente a 400 c'è questo T5 dell'FTV esattamente e poi prendendo proprio tutto il movimento guarda un po' quale movimento? la gamba questa? prendendo tutto il movimento esatto c'è un un 17 e 430 che è proprio il T3 di tutta la gamba esatto non qui eh sì sì quello là esatto esattamente quindi quella zona là di confluenza è molto bella a mio avviso sono un T3 e un T5 di un trigger importante e di una gamba importante perché è la gamba che ha fatto il minimo che ha creato la falsa rottura e quindi potrebbe essere molto interessante quella come zona di target no? ci sta sono d'accordo sì sì molto bello poi è ovvio che noi abbiamo una mega zona di target che è un po' più su che è un'area che noi abbiamo segnato però potrebbe essere un 17 e 4 e 20 se vogliamo no? sì io quello avevo pensato come zona a metà tra le due insomma capito? perché capito lo spike magari va a rompere il T5 va a prendere anche il T3 di quello magari lo va a prendere comunque comunque quella è una zona interessante dove prendere un target quindi e comunque c'è molto molto spazio rispetto a quello che è l'ingresso questo DAX cosa fa? bene o male in settimana non fa tanta volatilità rimane più o meno dove era ieri dove era anche l'altro ieri praticamente lunedì scusate lunedì ha fatto questa minibar martedì ha fatto la rottura che poi mi ha fatto confermare per entrare by limit ieri ci ha fatto un altro ulteriore FTV in decision quindi è tutta una serie di volatilità comunque abbastanza bassa che sembra voler far continuare il movimento verso l'alto anche qui mantengo sempre come dire il criterio dell'oro cerco sempre di valutare il tutto direttamente da quella che è la fotografia settimanale da quella che è la struttura che poi è da lì dove noi iniziamo a pianificare un trade e poi magari con il trigger andiamo ad avere il timing d'ingresso e la conferma ma in realtà in questo caso stiamo proprio su anche qui un mercato che è only long che non è salito molto questa settimana dopo quello che era successo però lo ritengo assolutamente affidabile interessante e non è successo molto il mercato sta lì sta congestionando e noi lo sappiamo che quando il mercato è in forte congestione per un po' può portare un movimento ovviamente di continuazione di trend spesso ma anche non di continuazione di trend cioè di aumento di volatilità lo può portare ovviamente quello che poi noi andiamo a fare è cercare di lavorare sulle strutture sui trigger quindi in questo caso trigger sono stati long quindi l'idea è quella che la lateralità del momento sfogherà possa sfogare in un movimento rialzista se no non sarà entrato long però anche questo diciamo è sempre un come dire un interrogativo non possiamo saperlo e che poi è anche un po' ieri mi sono trovato con Francesco uno del platino Francesco che è qui si parlava è quello che poi si diceva ma anche con Fabrizio poi ieri mattina si è sempre discusso di del fatto che una cosa che spesso ci fa come dire non performare bene nel trading a mio avviso è anche il fatto che si tende a il trading se ci pensate potrebbe sembrare un fare previsioni e quindi il fare previsione una volta che noi facciamo la previsione questa previsione non si verifica ci andiamo a come dire a martellare in testa ci può portare delle delusioni o comunque delle situazioni che ci fanno fastidio ci fanno male invece noi non dobbiamo quando noi facciamo io e Antonio facciamo l'esempio del commerciante del cercare di lavorare trading come azienda siamo venuti al corso cioè di lavorare come se fossimo proprio in uno scambio di merce fisica quasi dove non c'è anche lì c'è una previsione se vogliamo ma è meno è più sottile in questo caso invece è un po' più noi facciamo delle analisi e quindi ci sentiamo sbagliati se l'errata previsione si verifica invece ci sentiamo quasi euforici nel momento in cui ah che bravo che sono stato vedete anche tutte queste pubblicità di questi trader da 98% di posizioni in profitto io non sbaglio mai tutte queste cose qua invece noi dobbiamo non è facile come switch però dobbiamo cercare di guardare il trading non tanto in questo modo cioè non è una previsione noi ovviamente pianifichiamo abbiamo un piano come un commerciante qualsiasi che ha un piano noi facevamo l'esempio delle scarpe adesso continuo quello perché molti di voi sono venuti al trading come azienda che pianifica uno stock di x merce da poter rivendere quindi è sempre una pianificazione poi è sempre una previsione anche quella meno ripeto più sottile meno meno diretta però noi non dobbiamo rimanere male della previsione tra virgolette perché in realtà noi accettiamo il fatto che quando andiamo sul mercato compriamo quella merce e l'abbiamo già pagata io quei 503 che ho messo qua è come se li avessi già pagati al mercato cioè ho comprato già la merce quindi il fatto che questo possa salire o possa scendere non è tanto intanto non è nel mio controllo come si dice ma non è tanto un mio problema se vogliamo cioè adesso gestiamo la cosa cioè cerchiamo di rivendere al meglio quello che abbiamo comprato l'abbiamo già comprata questa non so se quindi dobbiamo io quando sono entrato in questa in questo approccio mentale da quasi commerciante puro che quando metto un trade l'ho già comprata quella merce quindi ho già spesi quei soldi poi è un gestire la situazione non è adesso vediamo se vado a target adesso sono andato a stop guarda quindi la previsione si inizia a fomentare no adesso si gestisce ho comprato la merce vediamo se riesco a rivenderla a quanto e se la rivendo a meno avrò preso una ho comprato a 500 e ho dovuto alla fine ho incassato un meno 200 quindi alla fine è come se no avessi preso un piccolo costo qualcosa o rivenduto in realtà ma non tutto cioè avete capito la differenza questo ci permette di gestire meglio le situazioni di avere una visione più imprenditoriale più più strutturata più che vi fa mantenere la disciplina vi fa mantenere il focus e non vi fa perdere la la testa nel momento in cui ci sono magari due o tre operazioni che abbiamo chiuso a costo che poi spesso non è neanche totale vuol dire che avevamo comprato quella merce e non siamo riusciti a rivenderla completamente come volevamo stop non che abbiamo sbagliato e allora non sono in grado di fare trading sono sbagliato oppure il metodo è sbagliato oppure io non sono non sono così intelligente così bravo per poterlo fare e allora poi ci andiamo a fracassare la testa e succedono tutte quelle cose vendetta no tutto quello che diciamo spesso no Anto cosa ne pensi? hai detto tutto tu è proprio così cioè è una questione di mentalità non c'è nulla da fare e alla fine quelli che ce la fanno sono quelli che hanno la mentalità così ecco perché poi noi addirittura diciamo facciamo un evento che è quello che faremo a marzo di tre addirittura di tre giorni completamente incentrato sul cercare di acquisire questa mentalità di fare acquisire questa mentalità perché quello che tu dici è verissimo il discorso è che nel trading c'è un elemento che non viene considerato che negli altri lavori tradizionali noi tranquillamente mettiamo non ci pensiamo perché lo diamo per scontato nel trading no nel trading dobbiamo imparare ad acquisire questo elemento che si chiama semplicemente il tempo cioè una volta che se tu compri della merce fisica non pretendi di venderla dopo due minuti al prezzo che vuoi rivenderla sai che passeranno delle settimane dei mesi quindi il commerciante in base a quello che è per esempio un negozio di abbigliamento di solito ragiona a stagione cioè non è che compro la maglietta oggi e la vendo oggi o domani probabilmente la venderò con gli sconti nei saldi fra quattro mesi fra cinque mesi capito e quindi diamo il tempo e magari quella merce non l'ho manco venduta e poi se la riprende il fornitore che mi fa uno sconto sulla prossima cioè ci sono tanti ragionamenti che si fanno su altri tipi di attività qui da no nel trading c'è l'elemento tempo perché le persone siccome c'è proprio la parte proprio ego il nostro cervello la vive come una sconfitta immediata il fatto che il trade non vada nella direzione che noi avevamo il buon vecchio Daxone Daxino Dax chiamatelo come volete che al momento non mi dà un movimento degno di quello che poteva sembrare il consolidamento però al momento direi che non ci sono diciamo i presupposti per fare altre cose nel senso che anche la gestione secondo me va tenuto così non ci sono diciamo cose su cui io andrei a per cui andrei a modificare questo mercato questo questo mio trade al momento i 16,7 16,8 sono il livello ovviamente dopo un po' di giorni che sto a mercato comunque devo capire il da farsi però non sono neanche tanti perché stiamo parlando che sono andato mercoledì scorso quindi mercoledì, giovedì, venerdì siamo tre giorni questo è il quarto giorno il mercato bene o male non ha dato conferme di voler venire giù anzi se vogliamo dopo questo che no faceva potremmo dire un po' la falsa ortura di questi massimi ma senza veramente se no sarei riuscito a aumentare la vola a dare degli spunti short veri qui ha dato spike sotto spike sotto ma c'è tutta un'area importante quindi comunque c'è ancora forza io al momento rimango al mercato l'unica cosa è che è un mercato che in effetti stare al mercato costicchia un po' quindi mentre sull'oro stare un giorno in più a mercato sinceramente neanche mi dispiace perché comunque paga paghicchia benino questo invece ti fa pagare eccolo qua è vero che il guadagno sul DAX potrebbe essere un ottimo guadagno rispetto al possibile overnight stiamo parlando comunque di magari 10, 20, 30 euro a fronte di molto di più però dobbiamo capire sicuramente il vediamo anche il client sentiment sicuramente la price action è ancora ottimale vediamo qua il client sentiment sul su IG guardate DAX 26% long 74% short quindi più del 70% è short e vedete un po' cosa com'è no? come la situazione tra l'altro se andiamo a prendere proprio il sito che ci mostra il client sentiment non solo su un broker ma prendendo X broker che è il forex sentiment eccolo qua vedete prendo qui notiamo come il Germany 30 addirittura prendendo più broker ha l'84% di posizionamenti short contro il 16% di posizionamenti long quindi siamo dalla parte giusta diciamo di base però al momento il mercato rimane lì sono d'accordo che sia una cambiale però è un po' è un po' questo ok va bene ecco quindi parlando proprio del DAX al di là di questo client sentiment che comunque ci dà un po' un'idea che il mercato qui tende un po' più a shortare su questi massi mi sembra tenere stiamo sempre sopra i 16 e 8 sopra i 16 e 7 ben sopra al momento abbiamo però un S&P 500 guardiamolo un po' che ha formato una mini pin reversal sul daily ieri quindi diciamo che è facile oggi che l'S&P possa avere un ritracciamento oggi nei prossimi giorni ci può stare assolutamente questo potrebbe portare a un ritracciamento ulteriore anche nel DAX che sapete che può sentire un po' quella quella forza diciamo di bassista che può arrivare ma non so neanche quanto arriva no però vedete anche qui il DAX proviamo a pensare anche se dovesse ritornare a 16 e 8 cosa possibile in questi giorni per poi magari ritornare su è che tutti questi giorni queste settimane portano a avere un interesse negativo ecco perché ieri avevo pensato di dire beh posso aspettare magari qualche giorno magari lui vuole ritornare qui ci fa un ulteriore trigger poi è anche vero che però a fronte magari di qualche euro che si può spendere di overnight nel caso dovesse fare questo e da un ulteriore conferma io qui molto probabilmente ricomprerei e abbasserei un po' lo stop lo metterei più non so qui lo metterei più classico non proprio classico però un po' più classico diciamo e magari potrei anche aumentare andare non dico un 3% perché qui comunque abbasserei fate conto che se io se succede quella cosa che vi ho detto mi potrei mettere con lo stop tipo qui che vorrebbe dire 3,56 3,56 sono molto meno e quindi potrei arrivare a tenere comunque sempre un 2% quindi inserire altri 150 euro di rischio quindi potrei aumentare la size di un altro 0,5 secondo me arrivare a un mini 50 un mini 60 quindi un euro e 60 un euro e 50 un euro e 60 un euro e 70 appunto che comunque non è male con uno stop diciamo un po' più piccolino e a quel punto da qua si potrebbe veramente creare i presupposti per un super trade però stiamo parlando insomma di una cosa che non è non è così magari non lo fa neanche e inizia a salire fatto sta che insomma questo overnight va comunque un po' pesato va seguito e basta insomma comunque questo DAX è lì sui massimi è attaccato i massimi dopo che sono entrato io ben o male non è che si sia mosso tanto si è mosso un po' a rialzo un po' a ribasso ma è rimasto sempre più o meno su questi livelli la media mobile si sta stringendo vedete perché ovviamente essendo calcolata sulle chiusure dei prezzi degli ultimi 21 giorni che pesano però essendo exponential di più gli ultimi 5 tende a andare più verso l'alto quindi a schiacciarsi sui prezzi cosa che va anche bene e mi piace adesso però vediamo insomma cosa sarà l'evolversi perché è lì dove noi dobbiamo avere un po' la visione torniamo un attimo sul DAX al momento sto sopra i 16.8 sto sopra il pivo mensile il mio stop è abbastanza lontano ovviamente bisognerà gestire un po' la cosa però la dinamica anzi probabilmente un po' di di fase interlocutoria dopo il breakout ci può stare quello che ripeto qui un po' è che mi fa storcere il naso è comunque il costo overnight che per carità non è enorme però comunque al suo dipende un po' dalla nottata comunque mediamente un euro e mezzo due a notte che comunque è un po' pesante diciamo è vero che per la posizione che ho non è così pesante se guardiamo al rischio preso al rendimento atteso o comunque preventivo non è però insomma va sempre a inficiare a influenzare diciamo la performance totale del trade quindi adesso valuterò con molta calma il nostro modo il nostro approccio ci permette di di essere molto calmi e nazionali e lucidi nella scelta di cosa fare seppur adesso ovviamente la chiusura è stata negativa ma è stata al di sopra vedete al momento dei 16.8 e dei 16.7 che comunque è un pivo ed è tutta un'area importante quindi al momento vedete come è calma e lucida lo studio della situazione che ci permette ovviamente di fare una valutazione molto molto sana e lucida ok quindi quando succedono determinate situazioni di grande volatilità e magari si è dentro a determinati trade o anche non si è dentro però pensate a quanto è importante il nostro approccio al trading il nostro approccio al trading ci permette di essere veramente super partes di rivalutare le cose in modo oggettivo e non emotivo quindi questo però se stiamo la mattina ci facciamo la nostra analisi chiudiamo la piattaforma se dobbiamo stare io per esempio sto qui al pc però magari faccio rispondo agli esercizi dell'accademia preparo un video su youtube penso a un webinar guardo i grafici solo ed esclusivamente in determinati orari e se li guardo li guardo perché magari sto scrivendo per esempio il libro e quindi devo andare a fare degli esempi grafici quindi li faccio ma in quell'ottica non quindi di studio non in ottica di guardo l'operazione costantemente e no poi divento gestore emotivo della situazione quindi il nostro metodo end of day set and forget quando noi diciamo la parola set and forget non vuol dire come diciamo spesso settiamo l'operazione e ce la dimentichiamo per le prossime tre settimane ma vuol dire questo vuol dire settiamo e non stiamo costantemente attaccati a guardare che cosa succede sulla posizione perché questo porta esclusivamente a essere poi dei gestori poco efficaci che non no che non che non funzionano bene quindi anche il DAX per dire quindi riflettiamo su questo quello che voglio farvi voglio dirvi è riflettiamo riflettete sul concetto dell'approccio del nostro metodo è tanta roba quello che stiamo facendo se voi arrivate da altre metodologie da altre cose potete ben capire che avere una gestione così oggettiva è super però dovete azionare dovete fare questo altrimenti se sono solo belle parole no? se si parla e basta poi non si fa quella roba lì e si va a fare miliardi di operazioni magari si aprono i time frame così si continua a cercare operatività e si continua a guardare il grafico ogni ora questo non ha niente a che fare con un trading serio ok? ok? quindi molto importante la nostra metodologia che è una metodologia set and forget abbiamo detto che non vuol dire ripeto dimentichiamoci l'operazione da qui alle prossime due settimane ma dimentichiamola in questo senso non stiamo costantemente a guardare pianifichiamo il nostro trade inseriamo il nostro stop paracadute così con un rischio che sia il rischio che possiamo permetterci sia a livello economico che a livello di capitale emotivo come dire e poi una volta al giorno due massimo io se ho qualcosa da andare a vedere verso le due ci do un occhio una e mezza due altrimenti magari me la guardo anche più più tardi oggi per esempio io ho la trading room con IG alle 15.15 ovviamente avrò i miei grafici aperti e guarderò guarderò magari le cose le situazioni quella tre quarti d'ora che abbiamo poi però una volta chiuso lì chiudo la piattaforma e stasera o prima di cena o in end of day proprio quindi dopo cena quando faccio il certo day mi riguardo e capisco un po' cosa è successo e valuto poi spesso il 90% delle volte il mattino dopo per fare delle cose se ci sono delle cose da fare partirei da qui visto che ho fatto questo incremento io non so se tu Damiano non mi ricordo se tu abbia fatto questa operazione o no se sei long o meno sono long anch'io sul DAX ho fatto il video esce oggi io in realtà stavo monitorando proprio il livello di 9.30 16.930 perché mi piaceva infatti poi esce il video stasera perché quella era la chiusura la chiusura settimanale interessante dove lui io in realtà mi ero detto vabbè se chiude forte magari chiudo la posizione però poi ieri mattina quando ho visto che effettivamente stavamo ancora sopra i 16.8 stavo rimbalzando ho detto vabbè dai con calma comunque lo stop è ampio poi adesso ha fatto una dinamica di falsa rottura ha rotto tutti i minimi recuperati insomma vero sei dentro più o meno dai miei livelli sulla prima posizione cioè su quella ho fatto mi sa che ho fatto lo stesso ingresso tuo c'evo lo stop leggermente diverso ma tipo 10 punti niente di che insomma quindi il mio era mi pare a 16.500 più o meno 4.90 in questa zona qua tu avevi 5.30 io forse 5.10 o viceversa se non mi ricordo comunque sì 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 beh guardiamolo subito vediamo un attimo perché in effetti non mi ricordo più che cosa che c'avevo dovrebbe esserci qui lo stop se non sbaglio no non c'è però sì forse 5.10 5.10 5.10 certo io adesso vedete ho due operazioni perché ho incrementato però in realtà vedete con la ProRealTime poi attraverso le impostazioni su visualizzazione potete mettere visualizzazione aggregata per non fare confusione tanto alla fine qui ne vale anche sempre il discorso che facevo anche durante il corso training come azienda abbiamo fatto ultimamente riguardante la gestione del rischio ovvero la prima posizione entro comunque bello pieno nel senso che col 2% non con lo 0.5 ma col 2 io nel mio piano ho il massimo del 3 quindi se voi avete il massimo del 2 sarebbe entrare con 1.5 almeno cioè entrare abbastanza comunque subito con una posizione seria perché l'incremento non c'è sempre non avviene sempre e entrare così perché perché ci permette poi se avviene l'incremento noi l'incremento lo facciamo tendenzialmente su una posizione che è già in profitto la posizione si va a incrementare con una size minore perché poi il rischio ovviamente che si va a prendere solitamente è un po' minore e questo ci permette di avere un prezzo di carico che diciamo non va troppo a favore del nuovo incremento quindi provate se avessi fatto 0.5 qui ho incrementato un punto comunque il prezzo medio di carico seppur qui comunque ho comprato molto vicino ai prezzi precedenti quindi comunque era più o meno lì però comunque va sempre più a favore quindi invece qui mi mantengo cerco di mantenermi con un prezzo diciamo di acquisto mediamente buono se vogliamo adesso questo va a rompere i massimi facilmente adesso l'ho detto non ci va più però no perché è così adesso qua sembra voler andare almeno a testare però magari ritraccio un pochino però insomma sembra bella sembra bello impostato e comunque è molto interessante qui con la piattaforma ProRealTime perché se fate così io quando ho una posizione aggregata quindi quando ho una posizione con più posizioni incrementata vado molto spesso in visualizzazione aggregata quindi clicco qui e lui vedete ci fa vedere solo il prezzo medio di carico con una posizione sola ovviamente lo stop se l'avete inserito in tutte e due come ho fatto io si vede in entrambe come si vede i due target nel caso però almeno si vede il prezzo di carico e si vede più o meno dove si è entrato quindi vedete alla fine io sono entrato sono rimasto da 9,85 a 9,94 più o meno insomma il prezzo di carico è ancora molto buono ma ho avuto la possibilità di incrementare uno 0,5 in più che porta diciamo il DAX mio acquistato per 1,56 ovvero un controvalore di circa 26.500 euro e adesso stiamo a vedere da un punto di vista ecco amministrativo ho inserito la posizione sul diario di trading quindi vi faccio vedere una cosa che io non mi ero accorto ma probabilmente sono l'unico tra tutti perché praticamente quando andate a inserire poi la posizione c'è la possibilità vedete con il messaggino qui del più dell'addizionare vedete potete aggiungere l'incremento e il nuovo rischio quindi semplicemente cliccando io non me ne ero accorto infatti ho chiesto a Damiano non vedevo invece era qua su vabbè quindi basta solo aggiungerlo ovviamente se c'è solo un incremento si può tenere la visione così se no la potete tranquillamente andare a aprire quindi questo l'ho inserito quindi ho inserito l'incremento in valore nozionale perché l'avevo inserito qui quindi l'ho copiato incollato come abbiamo detto quindi ho inserito la posizione qui l'ho copiato incollato me lo sono portato qui e poi il new risk rimane 500 euro quindi non ho aumentato io sapete che potrei avere fino a un massimo anche del 3% non ho aumentato il mio rischio ma ho mantenuto i 5% quindi il mio diciamo 2% da un punto di vista percentuale anche se sapete che le percentuali mi piacciono sempre poco mi piace sempre meno ma ovviamente per farvi capire a voi che comunque la percentuale utilizzata di capitale di investimento sul capitale totale di trading di questo conto qui è comunque una piccola percentuale questo è non si è utilizzato un 20% del conto per fare un trade no ma si è utilizzato una piccola percentuale quindi ho inserito questo ho anche già scritto sul che oggi me lo sono scritto questa cosa che ho incontrato che la forte vola di Bassini è stata risucchiata all'IB quindi alla fine quello che diceva Damiano ovvero che proprio ieri tra ieri e l'altro ieri si è creata una trap bar questa qui è una trappolona di questo livello qui di quest'area qui di supporto diciamo di pavimento che si era creata a 16,9 tondo nella giornata di martedì quando c'è stato anche l'affondo dell'oro della sterlina dell'euro tutti quanti hanno spinto ecco qua boom qui e adesso questa ripresa quindi la rottura qui questa era un inside molto molto potente pin bar in doppia candela praticamente in realtà questa è una trappola è una barra trappola che viene poi ripresa e adesso sta rompendo comunque i massi personalmente non pensavo che subito ieri ci fosse un recupero così pensavo che magari potesse ancora andarsi a fare il giretto verso il pivò io comunque anche e anche Damiano avevamo uno stop a 16,5 più o meno quindi c'era spazio ecco l'importanza del stop paracadute che adesso mi permette di incrementare di rimanere comunque largo sullo stop di non restare proprio incollato ai minimi vi fate conto che sul minimo della chiamiamola trap barra è 16.782 io mi sono messo a 16.675 quindi oltre 100 punti al di sotto dei minimi di quello lì quindi comunque l'incremento in questo caso e comunque anche se non avessi incrementato lo spostamento dello stop permette di rimanere comunque bene guardate ben posizionati senza essere troppo incollati a questi minimi che a volte possono essere ancora sporcati diciamo la cosa anche che non mi ha fatto fare nessuna scelta poi oltre al fatto che comunque c'è come dicevo ieri un rollover abbastanza esoso perché guardavo anche ieri mi sono partiti altri 10 euro poi di notte sono partiti un po' di soldi almeno nella mia posizione adesso non so dirvi quanti esattamente comunque sono partiti siccome è già una quindicina di euro a star dentro sto Dax però però in effetti mi sono guardato la struttura guardavo un po' il tutto guardavo il weekly guardavo anche il fatto che ieri subito l'S&P 500 ha fatto subito un come dire un un importante anche lui minimo e ripreso cioè non è riuscito subito a scendere ha mostrato forza ieri mattina sul sei ore si notava adesso vabbè è verticale ma si notava già la forza dopo il minimo fatto qui che tra l'altro se non sbaglio era leggermente sopra forse 781 questo era 782 si di un punto sopra però insomma siamo lì area di domanda presa almeno di breve questa è un'area di domanda di breve ho fatto un video sull'area di domanda offerta questa è un'area di domanda di brevissimo che è un sei ore ovviamente però in realtà anche sul daily si nota questa cosa quindi un'area di domanda importante che era la 16.8 se vi ricordate la zona la schis eccola qua eccola qua che poi va ritestata quindi c'era stato subito forza e poi una delle cose che vi ho fatto vedere proprio ultimamente era questo client sentiment che addirittura sta aumentando adesso ieri era tipo 78 cos'è 21 qualcosa del genere 22 e 17.83 adesso quindi in realtà questa cosa mi confermava un po' che tutto il mercato era è troppo voglioso di vederlo scendere sto DAX quindi continua a seccarlo sopra a provare a venderlo a provare a venderlo provare a venderlo e questo invece continua praticamente a salire guardate poi sul sito Forex Client Sentiment dove si vedono proprio con più broker 13% 87% quindi proprio DAX è praticamente noi siamo qua siamo tra 13% quindi siamo praticamente tra i pochi che stanno long ieri poi qualcuno anche da 3D Room di G mi dice vorrei comprare l'S&P in realtà ha detto una cosa giusta in quel caso però capite com'è però è come dire come si fa a comprare lì giustamente sull'S&P è vero però molti pensano anche la stessa cosa sul DAX poi non è neanche solo una questione grafica è anche una questione macroeconomica se vogliamo tutti da mesi si aspettano che ci sia la recessione questa roba un'altura di minimi un ribasso quindi c'è tutta questa aspettativa che nutre ancora di più si si siccome la Germania la Germania è in recessione tecnico comunque in recessione questo deve essere necessariamente diciamo una riflessione sul grafico in realtà non c'è di base quello che dobbiamo capire è che noi trader dobbiamo fare dove vanno gli interessi economici al momento vanno sulle imprese tedesche perché le imprese tedesche più importanti sono quotate cioè il DAX rappresenta quelle cose lì l'economia le aziende maggiori a livello più alta capitalizzazione della Germania quindi se i soldi vanno lì vuol dire che queste aziende vengono comprate in qualche modo non è che ci sia c'è interesse addirittura questo è su nuovi massimi ha fatto anche una bella congestione ci aveva fatto una bella FTV qui poi ce n'ha fatta un'altra qua poi c'è fatto qualcos'altro qui tenuta l'altro giorno breakout recupero cioè breakout questo trap bar recupero io sinceramente mi sono sentito di incrementare con ovviamente sempre la decisione del rischio limitando comunque al massimo la cosa diciamo che come ormai abbiamo questa terminologia come vi ho scritto in questo modo ho sempre investimento di 500 euro ma più merci in magazzino no? cioè ho comprato ancora un po' di merce il rischio è il medesimo perché comunque sono riuscito a gestire in un certo modo con il mio fornitore o col mio possibile cliente diciamoci così cerchiamo di vederla così perché la viviamo meglio sono dell'idea che la gestiamo meglio anche tutta l'operatività io almeno personalmente ma sono sicuro che anche voi e adesso cerchiamo di guadagnare il massimo di quello che si può fare io ho un target la che non vuol dire che dobbiamo per forza andare la target se no diventa poi un cane che si morde la coda ma adesso da questo da questo movimento cerchiamo di ottenere il massimo se guardiamo cosa si sta venendo a creare sul weekly diventa molto interessante perché il minimo fatto potrebbe se rimane così diventare un boost per un ulteriore movimento io dico che questa è una posizione interessante e bella che va gestita e poi c'è il DAX su cui io sono ancora dentro dal lontano 1983 no dai sto ancora dal 7 febbraio su cui poi ho incrementato la settimana scorsa ho incrementato ecco il DAX è assolutamente in linea non cambia nulla anche la PIN che ha fatto la scorsa settimana io ho messo un po' di livelli Ardu cioè questa se vatti tre arriva a 16.970 che è grosso modo il tuo prezzo medio grosso modo il prezzo medio perché il prezzo primo è più o meno lì e il prezzo secondo è un po' più alto e quindi il prezzo medio è praticamente 16.970 è una classica evidentemente è una classica presa di profitto tra l'altro ho notato Ardu che mettendo le estensioni se tu cancelli un po' metti le estensioni sull'ultimo su quella barra del primo di febbraio che è stata la barra che ha creato il minimo che non è stato poi mai più rotto è la mia barra trigger questa qui perché poi io sono entrato sul ritracciamento ma in realtà è stata metti l'estensione è arrivato sul T3 questa sì sì l'avevo visto questo l'ha fatto vedere anche Simone questo qui sul video non ho visto il video quindi arrivato sul T3 questo ora è molto facile di solito sul T3 fai il T1 o addirittura vai in zona di tracciamento ma fin quando non si scende sotto a mio avviso i 16.8 questo mercato è assolutamente long e quindi tuo trade va benissimo come stai stai anche con uno stop secondo me perfetto perché hai tempo per valutare eventuali crolli se ci dovessero essere però sinceramente questa ora probabilmente fra qualche giorno potrei fare un ulteriore incremento eh potrebbe succedere infatti si stavo pensando a fine settimana ovviamente però pensavo che se mi dà la possibilità di incrementare in quest'area allora probabilmente potrei pensare all'incremento se me la dà no sotto no sotto no se me la dà troppo alta metti caso che lui adesso faccia su invece di andare giù e poi fa questo eh no a quel punto stai troppo alto dopo diventa che mi mangio troppo il prezzo di carico va troppo su e non vorrei fare quindi no però se a me se dovesse darmi l'opportunità su quest'area qui no più o meno è un'area che potrei valutare fai conto che comunque io nell'incremento ho mantenuto il rischio iniziale perché io inizialmente lo stop ce l'avevo a 16 e 5 più o meno quindi ho alzato la prima e sono riuscito a incrementare mantenendo praticamente il rischio dell'iniziale ma con 0,5 in più se riesco a mettere un altro 0,5 vado a due contratti due contratti e venti qualcosa del genere meglio ancora perché avrei 2 euro e venti 2 euro invece di 1 euro e 56 appunto a quel punto potrei migliorare comunque è molto bello tra l'altro guardavo stamattina ormai una cosa che guardo su questo mercato il client sentiment rimane quasi al 90% 86 short quindi ancora la massa si aspetta lo short come hai detto tu hai detto una bella cosa questa pinbar è una pinbar di presa di profitto e sono molto d'accordo più che di inversione vera e strutturale poi adesso magari cambierà ma la struttura il reversal strutturale si crea non con una candela si crea in più tempo quindi ci vuole più tempo in questo momento sembra proprio la classica presa di profitto perché comunque venerdì ha fatto una giovedì in realtà mercoledì giovedì venerdì noi abbiamo avuto mercoledì giovedì venerdì hanno fatto un bel movimento una bella fiammata dai minimi e quindi questa ci sta come presa di profitto di breve io sono dell'idea insomma che anch'io rimango dentro Simone giustamente ha detto beh io qua intanto esco e poi la riprendo se mi farò su in che ci sta e è un'idea che ho avuto anch'io ma in realtà voglio star dentro in questo caso al momento me la sento ce l'ho e al massimo faccio un incremento oppure la chiuderò in altro modo adesso comunque sono 74 punti di profitto il mercato è ancora su oggi è chiusa l'America quindi non so l'Europa cosa farà se magari se nel pomeriggio tante volte è un po' influenzata e molto influenzabile anche dall'America magari da domani iniziamo a vedere quello che sta succedendo però mi piace è un mercato che tutti poi il fatto che tutti si aspettano un movimento molto forte short da tempo e questo continua a salire mi piace ancora di più poi lui ha rotto la lateralità che teneva il prezzo concluso in questi pochi punti per due settimane e abbondanti l'ha rotto l'ha tenuto sopra non è che la pinbar ha chiuso al di sotto è rimasto lì quindi al momento insomma tutto è è abbastanza secondo me per andare però come dice anche Piercarlo ho letto sì il messaggio che hai messo su Simone e in generale come ha fatto Simone non è assolutamente sbagliato e poi si va a rincrementare e si va scusa invece che incrementare si va a incassare questa parte e magari rientrare su se fa ovviamente la conferma potrebbe anche non farla nel senso che se adesso lui fa così domani parte e continua ma però ci sta nelle scelte l'importante è che le scelte come diciamo sempre siano razionali consapevoli ben pianificate invece il mio DAX dico il mio perché ormai è diventato mio nel senso che sono dentro da un po' lo sei comprato con l'overnight te lo sei no infatti adesso c'è da capire questo overnight perché è vero che paghiamo l'affitto come detto Cristiano però no vabbè adesso stiamo a vedere qua lui ieri non si è mosso tanto in effetto in effetti il weekly io cerco sempre di allontanare anche sul dollaro australiano anche ieri sera guardo quando faccio il chart of the day vedo sempre guardo il daily poi guardo sempre dove siamo sul weekly per non farmi prendere da una situazione che può essere positiva per me negativa flat come dire però devo sempre capire dove siamo in effetti io comunque vedete anche dove questo questo sto aspettando di salire credo mi dà l'idea che allora paradossalmente il prezzo di carico diciamo che lo spartiacque sì secondo me vedendo io parlo secondo che io guardate un po' vi faccio vedere questo qui sarebbero i due prezzi quindi molto vicini vedi uno a 16,984 però il prezzo di carico in effetti che è quello per cui noi dobbiamo la visualizzazione aggregata e ci permette di vedere questo quindi è un po' il livello spartiacco se tu lo vedi sul weekly ardu eccolo qua cioè fin quando stiamo sopra sì non è un trade da chiudere questo no no solo per l'overnight lo chiuderei guarda però non devo ovviamente però l'overnight magari te lo ripaghi con che questo no ma certo se questo rompe parte in due giorni arriva poi vogliamo vedere su un posto Dax che dici short sul Dax sì assolutamente sì io sono short sul Dax da novembre sono short sul Dax da novembre e adesso sto andando a prendere lo stop vedete purtroppo ho lasciato fino allo stop non ho mai mollato ho stato paziente bisogna tenere duro e io ho tenuto duro lo pagheremo questo stop che volete che vi dica no sto scherzando abbiamo fatto il contrario in realtà Simone arriviamo non le ho viste adesso andiamo anche sopra ovviamente le hai fatte all'inizio poi le andiamo a vedere poi le andiamo a vedere no vabbè qui eravamo siamo sul weekly tra l'altro questo è un weekly che è pesantissimo questo è il daily siamo madonna dove siamo arrivati stamattina addirittura 3.87 ha fatto stamattina mentre stavamo parlando probabilmente e vabbè l'incremento sembra andare a buon fine il movimento sui massimi poi consolidato sopra aveva creato la classica situazione che una volta rotta quando rompe il tappo questo come dicevamo era una classica presa di profitto che non ha generato un vero e proprio ritracciamento come si pensava ha fatto quel T1 come avevamo visto della FTW è andato a riprendersi questo classico T3 T1 T5 T3 T1 T5 molto molto classico molto classico cioè quello che dice Anto è questo di questa qui che è la FTW Master lui ha fatto T3 quindi 161.8 ritorna sul T1 cioè il 100% del trigger e adesso il prossimo livello è il T5 su cui io tra l'altro ho la mia il mio target in realtà leggermente sopra non lo so quante volte l'ho visto sta cosa non lo so quante volte ti giuro da quando ho studiato con i livelli ho fatto quel lavoro questa dinamica quando stiamo in un trend questa dinamica qua l'ho visto tra l'altro proprio sulle FTW no Art tu ti ricordi tutti gli studi sulle FTW è qualcosa in trend poi qua stiamo parlando di mercati azionari ancora di più se pensiamo anche a una cosa tra l'altro perché adesso l'abbiamo un po' tralasciata questa cosa però in realtà pensando anche agli stop classici paracodute io qui non avevo uno stop classico qui che non sarebbe stato preso ma che mi avrebbe probabilmente creato una gestione a volte anche magari un po' più no? non sarebbe stato preso perché probabilmente uno stop classico non l'avrei preso qui non l'avrei messo a due pip l'avrei messo almeno una decina di punti non l'avrei preso ma potrebbe avermi fatto fare una gestione sbagliata potrebbe eh non è detto però potrebbe invece con lo stop iniziale che era 16-5 16-5-10 qualcosa del genere mi ha permesso intanto di incrementare perché io avendo questo sono incrementato e sono incrementato con lo stesso rischio che avevo all'inizio non ho aumentato però ho aumentato di 0-5 il mio il mio trigger che vuol dire altri 200 euro in più nello stop 160 euro in più nello stop e 200 euro in più nel possibile target quindi comunque il fattore stop paracaduto in questo caso è vero che non sarebbe stato preso lo stop classico ma mi ha aiutato a gestire meglio addirittura aver potuto incrementare adesso guadagnare anche di più quindi vedete che il risk reward per come viene concepito non vale un pifero ed eccomi qui che mi trovo alla fine di questo video l'idea è quella di farvi vedere che l'operazione è stata chiusa ieri manualmente poco prima in realtà di prendere il target però ho voluto dopo questa barra praticamente della mattinata e quando eravamo più o meno su questi livelli ho voluto incassare eravamo a 40-50 punti dal target dopo averne fatti oltre 350 e la posizione come potete vedere è stata chiusa qui questo è un conto reale ovviamente che utilizzo per la condivisione nel servizio Mentorship Platinum e in questo caso questo è stato il gain totale della posizione che insomma è durata un bel po' di tempo visto che come avete visto la prima posizione era stata aperta addirittura il 7 di febbraio bene non ci sono altre cose da dire se avete qualsiasi domanda potete commentare qui ovviamente in questo video se vi è piaciuto il video mettere un mi piace se volete altri contenuti di questo tipo ovviamente scrivete che a noi fa piacere quindi condividere anche questo tipo di operazioni questo tipo di operatività e quindi andare molto sul pratico io vi saluto e vi auguro un buon Trading Simple a tutti